L'arbo nazionale dei gestori ambientali e l'autorità presso la Guane debbono iscriversi per poter operare principalmente i trasportatori dei rifiuti e i commercianti e gli intermedi dei rifiuti. Oggi alla scuola di alta formazione faremo il punto un po' della situazione, soprattutto alla luce delle novità che abbiamo davanti, tra le quali spicca quella del responsabile tecnico, che è una figura che deve essere munita di determinati requisiti che segue l'impresa nella sua attività di gestione dei rifiuti.